Non sta molto bene perché proprio in quelle ore diceva quest'uomo non può più parlare davanti a un microfono. Allora sei d'accordo su questa provocazione molto forte di Marianna ora a parte scherzi, cioè arrivare all'osso della questione che quei colpi di proiettile schivato il cervello di Trump colpiscono duramente Biden nella sua già difficile campagna elettorale. Vedo che adoperate tutti un linguaggio di guerra oltre che un po' cimiteriale questo ci dice quanto scricchio lì la democrazia americana come previsto nel libro di Antonio Di Bella si parla di guerra civile potenziale già da un po' di tempo ma ci dice anche come centrale sia il corpo del capo il contrasto fra i due corpi è emersa in quella fotografia che è come dire, paragonare alla grande pittura e alla grande storia mi spaventa. Che cosa ha gridato Trump rivolgendosi alla folle? è una parola che ha ripetuto per voi fight 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 combattete, combattete, combattete avete presente? Combattimento è quella la sua chiave da quattro anni perché non ha mai riconosciuto la validità della vittoria elettorale che ha riportato Biden da presidente alla Casa Bianca ancora nel marzo scorso dichiarava nei comizi se perdo io in America sarà un bagno di sangue questo è il clima nel quale fortunatamente si è salvato la vita per pochi millimetri ma rischia di degenerare non tanto la figura di Biden che era già debole, molto complicato sostituirla ma rischia di degenerare non dico in una guerra civile ma in una totale crisi della democrazia liberale e il sistema americano è uscito nel frattempo sul social network in cui ostracizzato dai social di tutti Donald Trump aveva trovato rifugio qualche anno fa il social creato da lui stesso è uscito un post di Trump che vediamo probabilmente in grafica in cui dice è stato solo